Carissimi amici, carissime amiche, salve a tutti, riprende inizio di una nuova settimana e riprendono i nostri casi. Ma c'è una novità, mi fa piacere pure, devo dirlo sostanzialmente, che forse non è chiuso definitivamente il caso di Nata Cella. Vi ricordate quella ragazza che nel lontano 6 maggio del 1996 fu barbaramente uccisa a Chiavari nello studio commercialista Masco Soracco. Ora ricorderete che poco tempo fa il GUP ha stabilito che praticamente non c'era luogo a procedere, quindi non c'era da fare alcun tipo di processo contro Anna Lucia Cecere, sospettata, secondo il pubblico ministero Gabriella Dotto, autrice di questo efferato omicidio e insomma c'erano, ci sono tanti di quegli indizi che però secondo il GUP non assurgevano a un'impostanza tale da poter sostenere l'accusa davanti a una costa di assise. E allora avevamo detto finisce qui, finisce così, però la fine non è stata messa perché sono uscite qualche giorno fa le motivazioni che non hanno affatto soddisfatto il PM Gabriella Dotto che sta predisponendo il ricorso in appello contro questa decisione del GUP. Quindi ci sta ancora la speranza che si possa procedere perché se venisse accorto questo appello poi ci sarebbe magari un diverso pronunciamento e quindi un processo, anche se il percorso si fa sempre un po' tortuoso. Però la notizia è questa, che la PM Gabriella Dotto sta preparando il ricorso in appello contro la decisione del GUP perché non è rimasta affatto soddisfatta delle motivazioni. Ecco, questo è il punto. Sono emesse tante cose, ultimamente, proprio recentissimamente, è emersa pure la deposizione di un carabiniere che all'epoca dei fatti nasa come egli sia stato impedito di procedere a interrogatorio formale della Cecere perché lui aveva, insomma, delle perplessità, però gli fu praticamente impedito e quindi ciò che cosa significa questo? Significa che questo è un ulteriore elemento per cui il PM dice come è possibile a scriviare basandosi su elementi acquisiti all'epoca, all'epoca dei fatti cioè di come siano stati, come dire, comunque elementi non sufficienti, non esaustivi acquisiti all'epoca e quindi insieme ad altri elementi il PM ritiene ci siano tutte le condizioni per andare comunque a una discussione e c'è anche da dire che sembra comunque anche dalle motivazioni del gruppo che sia accettata la presenza del Soracco che avrebbe, secondo l'accusa, un po' manomesso la scena del crimine avrebbe aiutato la Cecere a scappare, poi a rifugiarsi in Piemonte con una certa somma di denaro e quindi si è sempre, come dire, pensato quali potessero essere questi motivi per cui questa analogia Cecere sia andata via così precipitosamente e quali quindi potessero essere i motivi teoricamente per spingere a un delitto di tal genere e che sono motivi legati certamente a una cosiddetta storia di attaccamento di amore ma si dice anche a questione di ufficio poco chiare quindi emerge anche ad esempio che la Cecere abbia fatto pressioni sull'ex fidanzato circa il fatto di sostenere che all'epoca dell'omicidio fossero ancora insieme poi per non parlare delle altre testimonianze di quelle famose telefonate giunte alla signora Bacchioni la mamma del commercialista insomma si cerca e anche la criminologa Antonella Pesce Delfino fa un appello in tal senso fa un appello in tal senso perché dice è un peccato c'è tanta gente che magari non è ancora uscita allo scoperto nonostante gli anni passati e manca forse ancora un qualcosa e un qualcosa è ad esempio l'identità di questa persona che telefonava alla signora Bacchioni dicendo che erano cinque di loro che avevano visto delle cose testualmente la criminologa Antonella Pesce Delfino dice per me è stato imbarazzante leggere le motivazioni della sentenza perché ho trovato assurdo che gli elementi raccolti dalla procura siano stati considerati solo dei sospetti da non poter portare una condanna sarebbe interessante poter ascoltare e pose tante domande alla Cecere che non ha mai risposto a nulla però poi sottolinea anche che in questo atto di proscioglimento ed è qui forse la cosa più rilevante ascoltatemi la cosa forse più rilevante per cui c'è il fatto di poter fare anche un ricorso da parte del PM perché che cosa emerge dalle motivazioni qualcosa di a mio avviso di incredibile cioè si dice c'è un'anomalia grande perché si legge che comunque anche se il gruppo non si tiene che ci siano elementi indiziali tali da poter sostenere l'accusa alla Cecere però dice che ci sono stati gli elementi di sviamento delle indagini da parte del Soracco e della signora Bacchioni ci sono state menzogne ci sono state cose che non si dovevano fare come la pulizia di parte dell'ufficio delle scale quindi un favoreggiamento diciamo che viene riconosciuto però un ipotetico favoreggiamento al carico di ignoti a questo punto perché se si dice non ci sono gli elementi tali al carico della Cecere non si capirebbe questo Soracco a chi avrebbe perché avrebbe fatto perché avrebbe mentito a chi avrebbe dovuto insomma favorire quindi questo è veramente qualcosa qualcosa di strano di strano il paradosso che viene riconosciuto una colpa abbastanza grave al Soracco ma non si può procedere come dire contro al Soracco stesso per favoreggiamento per aver insomma mentito eccetera perché perché con lei che dovrebbe essere la sospettata dell'omicidio non è indagata e quindi questo favoreggiamento capirete bene non ha una pezza d'appoggio se se l'indagata poi non viene rinviata a giudizio quindi è un paradosso perché veramente il gruppo sostanzialmente nelle motivazioni riconosce delle responsabilità in capo a Soracco e anche alla di lui madre quindi è veramente qualcosa di di strano che che fa dire alla criminologa Antonella Pesce Delfino per me è stato imbarazzante dice leggere le motivazioni quindi è un po' una studietà giuridica per come la vedo io quindi e poi conclude la stessa criminologa dicendo veramente astuto perché anche a livello di alibi non c'è non c'è stato nessun alibi verificato all'epoca in capo ad Anna Lucia Cecere eppure si decide a priori a priori che tanti indizi non sono sufficienti per sostenere una accusa ora certo sarebbe stato magari più interessante andare a discutere tutta una serie di indizi davanti alla corte di Assise con un escursus diciamo completo di tutta la vicenda perché capirete bene che la voce della Cecere noi non l'abbiamo mai mai ascoltata proprio perché non ha mai rilasciato dichiarazione quindi è questo un po' è un po' quello che ha lasciato perlomeno l'amaro in bocca quindi l'APM la dottoressa Gabriella Dotto insiste farà questo ricorso dicendoci che ci sono ci sono delle testimonianze impostanti che si propende anche per il filone di un cosiddetto malaffare in relazione alle attività dello studio di commercialista del Soracco e che stava portando anche la stessa Nata ad abbandonare ad abbandonare quello quello studio ci sono testimonianze della mamma di Nata che appunto aveva all'epoca già confidato che la figlia assolutamente voleva andare via perché magari aveva scoperto certe cose non dimentichiamoci ad esempio il famoso giallo il famoso segreto del floppy disk cioè il sabato precedente dell'omicidio la Nata va in ufficio dove non era mai andato il sabato mattino e viene vista dalla mamma del Soracco che estrae un floppy disk che all'epoca si usavano questi floppy disk sui quali si copiavano i dati insomma quindi e dal computer del Soracco quindi estraeva questo questo dischetto con dei dati chissà quali dati erano non è mai stato più trovato questo floppy disk quindi si c'è anche l'idea che ci fosse qualcosa di anomalo come c'erano voci che giravano a suo tempo su queste attività e che sembra proprio che stavano portando la stessa nata a voler abbandonare insomma l'ufficio quindi anche c'è una testimonianza anche di un amico del Soracco in tal senso che dice che il Soracco stesso gli aveva confidato che poteva scoppiare una bomba qua e là quindi certamente dispiace che tutti questi elementi potrebbero essere oggetto di una unica grande ricostruzione di unica grande ricostruzione di questo caso davanti a una corte rassiste ma ovviamente ci sono ci sono elementi tecnici da valutare e certamente noi siamo rispettosi di tutte le sentenze per cui se fino a questo momento è stato valutato che non ci sono elementi indiziati per sostenere un'accusa non abbiamo come dire elementi nuovi per poter dire non è così però lo dice lo dice la PM Gabriella Dotto dice per me non è così non mi hanno soddisfatto affatto le motivazioni del del gruppo fa appello e quindi poi vedremo insomma se questo caso andrà avanti oppure se si ascriverà definitivamente quindi vi invito a seguirmi ecco a seguirmi su questo caso qui che quindi non si chiude ancora e spero che possiamo avere presto delle novità quindi seguitemi e condividiamo tutti condividiamo questo video grazie e un abbraccio a tutti quanti voi grazie a tutti